Il primo febbraio 1982, un giovane Mario Desisti, nostro padre, Lia, nostra madre, degli adolescenti Fabio e Sergio, noi due, ed i nostri cugini Claudio e Roberto Rinaldi, nonché un gruppo di amici, iniziavano l'avventura Desisti. Quest'anno celebriamo il nostro quarantesimo anniversario e il gruppo Desisti è uno dei produttori leader mondiali nel settore dell'illuminazione professionale. Siamo presenti in tutto il mondo con un team entusiasta proponendo prodotti performanti basati su innovazione ed alte efficienze. Ci auguriamo di poter ripetere nei prossimi 40 anni lo stesso successo, di poter provare lo stesso piacere nel lavorare insieme e di essere sempre all'altezza di suggerire e proporre innovazione nei prodotti e nei sistemi di illuminazione. Un grande ringraziamento e una grande gratitudine va a tutte le nostre maestranze, ai manager, partner, clienti e utilizzatori. Senza di loro la Desisti non sarebbe esistita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.